partenza valida questa volta è partita molto bene la Valandis questa volta insieme di Nara era mancata un po' in partita è partita benissimo, molto coordinata la Panamzic girano quasi insieme Unger e Panamzic ma si stacca decisamente la Panamzic e la Unger cerca di incalzarla da vicino ma la Panamzic mantiene la posizione no, tocca prima la cortina numero 3 ancora una volta la Osigus no, no, è la Valandis che è la 3 la Osigus è la 4 scusate, la Osigus è la 4 e c'è un errore nel... la Osigus è la 4, la Panamzic è la 3